Ciao ragazzi Grazie di essere con me oggi Oggi farò un video molto 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 semplice ma che non ho mai fatto sul mio canale e cioè un video di conforto un video tranquillizzante non so come definirlo un video motivazionale, rinfrancante non so veramente come definirlo rassicurante ecco un video rassicurante in questi giorni come chi mi segue su Instagram saprà questo periodo questi giorni è un po' particolare per me con molte emozioni contrastanti quindi è un periodo un po' difficile diciamo comunque impegnativo ma che sicuramente ricorderò per tutta la vita e comunque per cui prima o poi la maggior parte delle persone o molti di voi saranno già passati su Instagram avete anche dato consigli insomma condividere la vostra esperienza comunque è un periodo in cui davvero ho bisogno di ho bisogno che qualcuno mi dica andrà tutto bene semplicemente semplicemente e in questo video sarò io a dirla a voi perché ci credo davvero perché col cuore lo sento che sia anche uno solo di voi avrà bisogno di queste parole io sono qui per dirle voglio dire che andrà tutto bene e voglio dire che non c'è bisogno di eccitarsi che stai facendo tutto il possibile e che quindi andrà tutto bene questo video sarà accompagnato un video rassicurato non mi viene mai a mettere la parola questo video sarà accompagnato da molti hand movements senza crezze al viso sia con le mani sia con i pennelli e sarà accompagnato da un po' di sto clicking perché è il trigger che più mi tranquillizza non so perché mi ricorda l'infanzia mi fa sentire al sicuro e lo trovo perfetto per questo tipo di video spero che faccia lo stesso effetto anche voi non so se riuscite a capire questa sensazione prima di iniziare voglio che prendiamo dei respiri profondissimi insieme 4-5 quelli che sono è una tecnica che uso spesso quando non riesco a liberarmi dai pensieri è quasi un rimedio meccanico nel senso che espiro talmente tanto forte che sento che proprio tutto va via quindi provate con me espira tutta l'aria che riesce espirare inspira e ho espirato fino a quando non avevo assolutamente più aria dovete espirare tutto 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 solo così atterrete l'effetto dell'iterato ancora ok ultima volta non so se lo sentite ma quando cominciate a espellere fino all'ultimo con la molecola d'aria sentirete che proprio starete sprendo tantissime cose ok adesso prendiamo un po' i pensieri va tutto bene ecco qua e ancora e ancora Spero davvero che queste carezze vi facciano bene e spero davvero che capiate che tutte le parole che dirò vengono dal cuore. Non avrei mai fatto questo video se non avessi saputo che tutto ciò, quello che vi posso trasmettere, che vi posso dire, non viene dal cuore. Non sono qui per dirvi che andrà tutto bene senza far niente. Io sono qui per dirvi che se state facendo tutto ciò che potete fare andrà tutto bene. Se avete fatto tutto ciò che potevate fare andrà tutto bene. Sono qui per dirvi che non vale la pena penarsi tanto nel futuro. Perché il presente è solo ora. A volte è difficile però. bisogna cercare di godersi. Ogni momento cercare di vivere nel presente facendo del bene ai noi stessi del futuro. e sicuramente così andrà tutto bene. Non ti preoccupare. andrà tutto bene. Un po' di carezza il viso perché te le meriti. non ti preoccupare. ecco qui. un po' sul naso. non ti preoccupare. non ti preoccupare. non ti preoccupare. pensa ad adesso. non pensare troppo al domani al futuro. Cerca di goderti e di prendere questo momento così come viene in tutte le sue sfumature più belle. perché è davvero importante. perché è davvero importante. perché è l'unico momento che puoi realmente controllare. è questo. e basta. quindi goditi queste carezze. perché te le meriti. ricorda che tutto ciò che fai tutto ciò che vale la pena fare è ciò che fa bene a te stesso. e quindi farà bene anche agli altri. andrà tutto bene. perché ognuno di noi è speciale. tu. sei speciale. tu. io lo dico perché lo penso. forse tu potrai non pensarlo. io non lo dico perché ti conosco. lo dico perché ognuno di noi ha un potenziale immenso. immenso. per poter essere felice. per poter far felici gli altri. quindi ognuno di noi è speciale. è importantissimo essere coscienti. è importantissimo essere coscienti. impara a volerti bene. sei la persona più preziosa della tua vita. e impara a voler bene al tuo corpo ma anche al tuo spirito. sembra una cavolata ma molte volte ci preoccupiamo tanto del benessere del nostro corpo. però il nostro pensiero ciò che siamo dentro ha bisogno di altrettanto nutrimento. ed è forse il nutrimento più importante. e non ti preoccupare se c'è qualcosa che non va. non ti preoccupare se c'è qualcosa che non sembra potersi risolvere. perché va tutto bene. andrà tutto bene. andrà tutto bene. adesso ripeterò un po' di parole un po' di it's ok perchè mi piace tantissimo come trick. è tutto bene 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 ok it's ok it's ok andratu andratu come vi dico sempre tutto ciò di cui dovete realmente a cui dovete realmente pensare e a mettere tutti voi stessi tutti voi stessi nelle cose che state facendo a metterci tutto il vostro amore tutta la vostra passione tutta la vostra energia perchè vi assicuro che così andrà tutto per il meglio andrà tutto bene andrà tutto 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 bene it's ok penso che fai i sogni tranquilli non c'è bisogno di preoccuparsi cerca di riposarti ora cerca di gratificarti cerca di volerti bene e spero davvero che tu abbia sentito che tutto ciò che sto dicendo mi viene dal cuore e che è spontaneo non è preparato in alcun modo e spero che arrivi diretto e spero che arrivi diretto a me a te perchè è importante e poi è qui qui è qui è qui è è qui è è è è qui è è qui è è qui è 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 il 학 buona notte sogni d'oro buona notte buona notte tutti sue sueños buona notte buona notte buon luni buon lunas buon lunas buon lunas Buonanotte pasticcini Buonanotte 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 Vi mando un bacione Grande Che rispera